Quei personaggi della narrativa che mi hanno sempre affascinato, personaggi dalla doppia identità, in maschera, magari con intelligenza e poteri superiori alla norma. Bentornati nel canale. Avevo circa 8-10 anni quando senti parlare di Fantomius, il cui vero nome è Lord John Lamont Quackets. È un personaggio dei fumetti Disney creato da Elisa Penna, Guido Martina e Giovanni Battista Carpi nel 1969, come personaggio che fornisce la prima ispirazione a Paperino per crearsi l'identità segreta di Paperinic. Infatti Paperino ricorda le sue gesta nel primo capitolo di Paperinic quando trova il famoso diario segreto nella villa di Fantomius. La sua vera identità come Lord Quacket è stata rivelata per la prima volta da Marco Gervasio nella storia Paperinic e l'ombra di Fantomius, nel topolino 2455 del 17 dicembre 2002. Ho scritto tutte le date perché a ricordarle tutte ce ne vuole. Mentre il nome di battesimo John appare per la prima volta in Paperinic è il segreto di Fantomius, sempre di Gervasio, nel 2011. Dal 2007 Gervasio sta realizzando, a partire dal topolino numero 2972 del novembre 2012, una serie di storie con Fantomius da protagonista, ambientate nella Paperopoli degli anni venti, intitolato Le strabilianti imprese di Fantomius, ladro gentiluomo. Nel 2020 Gervasio crea un'altra saga intitolata Paperbridge, ambientata nei primi anni del Novecento, quando il giovane Lord Quacket frequentava a Londra il college di Paperbridge. Il nome del personaggio è un chiaro riferimento logicamente a Fantomius, ideato da Malser, Alain e Pierre Souvestre, di cui ho parlato alcuni mesi fa. Avevo fatto un video e vi metto sotto il link. Il suo stile di ladro gentiluomo è invece derivato dall'Arsène Lupin di Maurice Leblanche, le cui storie iniziano la pubblicazione nel 1905. Considerando che il personaggio di Paperinic aveva avuto come modello anche diabolic di Angela e Luciana Giussani, a sua volta ispirato proprio a Fantomius e a Lupin. Quindi c'è un po' di questi tre personaggi nella caratterizzazione del nostro eroe. Ora, Definitive Collection è questa testata Disney inizialmente a cadenza bimestrale, volume 1.17, poi mensile dal 18 al 28, quadrimestrale dal 29 al 38. Numero di albi in tutto, quindi 38 albi, pubblicata da Panini Comics con l'obiettivo di raccogliere tutte le principali saghe a fumetti pubblicate su Topolino. Infatti comprendeva anche altre saghe, altre storie. Il prezzo iniziale era di 3,90, formato 17x24, ogni volume è composto da 116 pagine. Però il prezzo a partire dal numero 9 subisce un aumento da 3,90, va a 4,50. Debutta il 15 ottobre 2014 con il primo volume dedicato a Fantomius che io ho qui e vi faccio vedere. La seconda storia è del giugno 2015, quindi la seconda è otto mesi dopo, perché fra mezzo c'erano altre testate, altre saghe. L'ultimo numero invece è del marzo 2022. Questa serie ha avuto un bel successo, un bel riscontro, sono state fatte un sacco di ristampe, di volumi cartonati, di vari formati. Successivamente viene annunciata la chiusura della testata con il numero 29, però a seguito delle richieste dei lettori di completare tutte le serie in corso, venne rilanciata nel marzo 2019 e rinnovata in Definitive Collection Extra. La periodicità diventa quadrimestrale e gli albi raddoppiano la loro foliazione, cioè raddoppiano le pagine. Nel 2023 viene considerata ufficialmente chiusa e i volumi restanti dedicati alla saga di Fantomius vengano ristampati sotto la collana Disney Special Events, mantenendo la stessa veste grafica e le caratteristiche della Definitive Collection. Il primo numero, eccolo qui, questo è quello originale perché è stato ristampato. la costina, dietro c'è sempre un disegno, tutta a colori ovviamente, bellissimi disegni di Gervasio con redazionali, parecchi redazionali su Fantomius Paperimic, eccetera. bellissima serie, io ho anche il numero 2, che vi faccio vedere, sempre disegni dietro, e la costina. Quindi, Fantomius, ladro gentiluomo, Definitive Collection, edizioni Panini. Un saluto e allora al prossimo video al Dingo Show, iscrivetevi!